Allora, prima cosa il primo instant date con le ragazze di colore. Allora è andato male purtroppo perché dopo mi ha scritto un messaggio in cui mi dice che era rimasta impressionata dalla mia sicurezza e dalla mia iniziativa nell'andarle a parlare per strada, però allo suo tempo, per via della differenza di età, non voleva avere nessun tipo di storia, di scopo amicizia, insomma, non voleva fare niente, nonostante il fatto che l'abbia impressionata positivamente. Quanti anni hai? 31. E tu ne hai 21? 22. Ok, quindi vuoi che ti rispondo su questo? Sì, più che altro, allora Giovanni mi dice che secondo lui l'età è sempre una scusa, cioè alla fine in realtà una ragazza se è attratta va da te anche se ci sono 12 anni di differenza, così la pensa lui, poi tu mi dirai sicuramente meglio se può essere veramente quello il problema oppure se il problema è che ho sbagliato io qualcosa magari, ma alla fine ho seguito, non penso di essere andato molto fuori dalle righe rispetto a quello che, insomma, quello che c'eravamo predefiniti la scorsa volta, quindi magari è proprio un problema di età. no, non è un problema di età, io il 90% delle ragazze in cui riesco sono tutte più grandi di me, tutte di 2, 3, 4, 5 più anni grandi di me, delle volte anche 10, 15 anni più grandi di me e già quando avevo 19 anni, 20 anni, quindi non è un problema di età, non è mai un problema di età, in realtà delle volte sì, ci sono delle volte in cui per categoria, infatti io definisco tre categorie, ci sono la categoria di ragazze che proprio per categoria non uscirà mai con un ragazzo più giovane rispetto a lei e quelle di cui sono inconvertibili, non puoi farci niente, ci sono quelle che hanno già esperienza all'uscire con ragazzi più giovani, anche magari molto più giovani e quindi lì fondamentalmente se vedono sufficiente valore, se appunto sufficiente appunto maturità di testa, che è quello poi il punto centrale, quindi la maturità di testa appunto è quello che poi va a creare attrazione, valore agli occhi della ragazza, quindi hanno già esperienza con ragazzi più giovani e quindi non si fanno nessun tipo di problema, escono con ragazzi più giovani, escono con ragazzi più grandi, escono con ragazzi della loro età e non c'è nessun tipo di problema e poi c'è l'altra categoria di ragazze che non sono mai uscite con ragazzi più giovani che però se vedono comunque valore non si fanno nessun tipo di problema e appunto mi capita un sacco di volte agli appuntamenti che mi dicono che non sono mai uscita con uno più giovane, quindi è una questione di maturità di testa che devi trasmettere alla ragazza e lo fai in diversi modi, per esempio devi saltare fuori dallo stereotipo di quello che è il ragazzo giovane, quindi non devi parlare con lei di per esempio del fatto che vivi con genitori, nonni o quello che è, non è una cosa, cioè per lei che ha 31 anni, anche se lei vive magari con genitori che non fa niente, cioè se comunque lei vive da sola con quei inquilini, lei lavora, è una donna più adulta, una carriera un po' più avviata, non puoi parlarle del fatto che vivi con genitori, nonni o con chi vivi tu. Ma come posso mascherare questa cosa? Cosa? Come posso mascherare il fatto che effettivamente io vivo con i miei nonni, quindi come posso nascondere il fatto che io vivo con i miei nonni? Non lo devi nascondere, semplicemente non lo menzioni, non è da menzionare come cosa, non è un argomento che deve saltar fuori, se salta fuori vivi con coinquilini, che non è un mentire, devi rimpacchettare la realtà in modo da facilitarti il lavoro, in modo da essere percepito, un po' più di alto valore, quindi se salta fuori, dici che vivi con coinquilini, non lo verrà mai a sapere, pertanto non ce la porti a casa tua perché hai questi coinquilini che poi sono i tuoi nonni, quindi non devi venire fuori come argomento. Magari le chiede perché non mi porti a casa se sei dei coinquilini e alla fine la casa l'hai pagata e ci puoi fare quello che vuoi. No, no, è una cosa che non succede, è una cosa che non succederà mai. Ma nel caso in cui succeda cosa faccio, cosa mi consigli di fare? Ti dico, non succede, non porti questo problema, non succederà mai, semplicemente no, non succederà mai, al massimo non sono mai la ragazza a invitarsi a casa tua, poi soprattutto in maniera così esplicita. Io ho fatto un appuntamento l'altro giorno, l'ho fatto un invito per la seconda location, però poi lei mi ha detto ma non è che possiamo stare magari più intimi? E quello era un chiaro autoinvito a casa mia, ma non mi ha detto ma come mai non mi porti a casa tua? Non esiste, cioè non ti faranno mai una roba del genere, quindi ti stai preoccupando del nulla. Non deve venire fuori il fatto che sei in università, per esempio, o comunque può venire fuori come cosa però non stare a parlarne eccessivamente. Cioè puoi dire che vai in università, però sempre con, diciamo, raccontando, diciamo, cioè non mettendogli già come tutti. Sono entrato in argomento, sono entrato in argomento, io le avevo detto che ho un progetto, che è poi la verità, per l'albergo, che io vorrei lavorare in albergo, vorrei fare carriera e questo è l'università legata a un progetto in realtà. Puoi parlarle dell'università senza però entrare nel dettaglio, quindi con il focus sul progetto, però non usare la parola progetto, cioè ti dici che vuoi perché tutte le volte che ti dico qualcosa poi le prendi molto alla lettera, pari pari come l'ho detto io. Cioè va bene, ok, ma non dire alla ragazza che ho il progetto di poi lavorare in hotel o quello che era. Cioè togli la parola progetto. La parola progetto mi serve a me per spiegarti il concetto, però togli la parola progetto da quando le racconti. Non dire che ho il progetto di, semplicemente le dici, faccio, sto studiando all'università questa cosa qui, poi voglio trasferirmi a Milano perché voglio lavorare nell'hotel, così. Togli la parola progetto. Mi serve a me per spiegarti il concetto a te, voi nel gruppo, però togli la parola progetto. Quindi altre cose sono l'esperienza di vita, quindi che è la cosa principale che mi permette a me di uscire con ragazze più grandi di me, anche molto più grandi di me. Cioè la ragazza dell'altro giorno lì con cui ero in casa, che lei era più piccola di me, è un caso particolare, di solito appunto sono ragazze più grandi di me, ma cioè lei era innamorata, infatti glielo ho detto, non attaccarti dopo, lei comunque si è attaccata un sacco, ma perché c'erano tutte queste cose qua che in confronto a lei c'era proprio una disproporzione enorme. Lei era una ragazzina, 21 anni, ha fatto l'università, poi l'ha mollata l'università, poi ha provato a lavorare. L'esperienza di vita può influire veramente così tanto, cioè nel senso io l'ho sempre vista è più come una cosa accessoria. Eh no, cioè una cosa accessoria no, è una cosa che impatta molto sulla tua sicurezza interiore, sugli argomenti di conversazione, sulla tua vitalità, cioè sono queste tre cose che ho detto, la sicurezza interiore, gli argomenti di conversazione, la tua vitalità quando sei con la ragazza, cioè l'energia che hai, sono tre cose che impattano in una maniera assurda, quindi più esperienze di vita hai, più queste cose si potenziano, più di conseguenza hai risultati, sia con ragazze più giovani, sia anche con ragazze più grandi. Perché la cosa della, appunto, le ragazze, veramente tutte, sia più giovani che più piccole, cioè sia più giovani che più grandi, cercano un uomo più maturo di loro, non necessariamente a livello di età, ma a livello di testa. E quella maturità a livello di testa la acquisisci con le esperienze di vita. Le esperienze di vita ci possono essere un miliardo di cose, ci possono essere per esempio le interazioni che fai con le persone, quindi, anche molto semplicemente, approcciare tante ragazze, fare tanta pratica di interazione con ragazze. Ho sempre fatto lavori dove interagivo tutti i giorni, tutto il giorno con gente sconosciuta, e ne ho fatti diverse categorie. Questa cosa ti dà un sacco di esperienza a livello di interazione con persone. Esperienze, te l'ho già spiegato sicuramente in qualcuno degli audio su Telegram, o comunque nelle consulenze su Skype. Hai consigliato di cercarmi Groupon, per esempio. Sì, esatto, esatto. Tutte queste cose qua, tutte queste esperienze ti danno più sicurezza interiore, ti fanno apparire più maturo, non che ti fanno apparire, sei più maturo agli occhi di una ragazza più grande di te. Perché poi le esperienze che le vai a raccontare, cioè, le fan dire minchia, wow. Sembra che appunto sei stato, magari ovunque, magari sei stato in, non so, cinque paesi, sei paesi, però magari raccontati in una conversazione di un'ora, non perché gli devi raccontare così fai il figo e ti fai vedere, perché saltano fuori come argomenti, magari raccontati in una conversazione, magari parlate 20 minuti di viaggi, viene fuori, sei stato di qua, di là, di su, di giù, e ci sembra che magari sia stato ovunque. Oppure, diciamo, l'essere preparato su tanti argomenti di vita, però, certe volte, cioè, sembra che io so tutto di tutto. Ma perché appunto mi sono esposto a tante situazioni diverse con tante ragazze, con tante persone, al di fuori anche del contesto delle ragazze, avevo fatto questo esempio una volta, non mi ricordo dove, e stavo parlando al telefono, ero in una chiamata con una ragazza, che praticamente lei fa, non so, l'architetto, non mi ricordo cosa faceva, e praticamente lei vive a Dubai, e mi ha detto che appunto, lei appunto lavora come architetto, e ho detto, ah, quindi conoscerai la costruzione che stanno facendo lì della Creek Tower, che sarà il nuovo grattacielo più alto al mondo, eccetera, che però in realtà non sarà tecnicamente un grattacielo, perché il grattacielo deve essere 80% abitabile per essere definito come grattacielo, e lei mi diceva, ma sei sicuro che non fai l'architetto, cioè sei sicuro che non devi fare l'architetto, perché mi sembra che ne sei di più tu che me, che faccio questo lavoro, cioè, quindi sembrava che ne sapessi di più di lei, solo che per lei era il suo lavoro, lei non sapeva di questa cosa qua, eccetera, però è perché faccio tante esperienze diverse con tante persone in tante aree, quindi devi, e queste cose qua, il fatto che sei, diciamo, preparato su, non dico che devi sapere cultura generale, quello io proprio sono contrario alla cultura generale, cioè se una cosa è inutile, se una cosa non la puoi applicare nella vita reale, non serve saperla, sapere dove è nato Napoleone, dove è morto Garibaldi, queste cagate qua non ti servono a niente nella vita, quindi cose che sono comunque applicabili, a me interessava questa cosa della torre lì, quindi era una cosa che sapevo di mio, però in quel caso mi è venuta fuori, l'altro giorno avevo una ragazza che era un appuntamento, io non so un cazzo di musica, però mi ricordo avevo un amico che faceva il DJ e quindi abbiamo parlato di quello, ma io non so un cazzo di musica, e in tutte le interazioni saltano fuori queste cose qua, che fanno vedere alla ragazza che comunque ho esperienza su questo, ho esperienza su quello, ho fatto di saper leggere le sue reazioni, tutte cose che ti fanno poi essere più maturo agli occhi della ragazza. Detto ciò, se vuoi imparare un metodo procedurale passo dopo passo, dall'approccio fino al sesso, c'è il mio videocorso che si chiama esattamente dall'approccio al sesso che insegna tutto questo, è un corso di oltre 45 ore, lo trovi andando sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione, quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengono trattati nei prossimi video, visto che esce un video di tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao!